Aria di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Perlomeno, aria di lite, come ha documentato il settimanale Novella 2000 in un servizio appena pubblicato. La coppia è stata fotografata durante un litigio in pubblico avvenuto a Milano. Le immagini mostrano l'alterco tra i due, al termine del quale De Martino se ne sarebbe andato via in Vespa, lasciando la compagna con gli occhi lucidi. Non passa giorno in cui la bella showgirl argentina non sale agli onori della cronaca di gossip. Vuoi per le foto maliziose o i video delle tante campagne pubblicitarie che la vedono protagonista, vuoi per i suoi post sui profili Facebook, Instagram e Twitter che solleticano sempre la curiosità dei fan. O, ancora, per le numerose interviste che rilascia le testate di spettacolo in cui racconta la vita da mamma con Santiago o il legame con Stefano, papà del bambino. Proprio poco tempo fa, la famiglia è stata immortalata in un set di tenerissime foto che ritraggono momenti di intimità tra genitori e piccolo. Ora, gli scatti pubblicati raccontano di un battivecco Belen e Stefano che sembrerebbe essere stato piuttosto vivace. La relazione tra i due dura ormai dall'aprile 2012. Un anno dopo, è nato il loro primo figlio, mentre nel settembre 2013 è stato celebrato il matrimonio. De Martino, divenuto popolare nel 2009 come ballerino della trasmissione di Maria De Filippi e Mici, ha recentemente deciso di lasciare la carriera nel mondo dello spettacolo per avviare una carriera imprenditoriale. Ha infatti deciso di aprire una boutica Milano, in zona Brera. Nonostante il nuovo lavoro, c'è peraltro la possibilità che Stefano partecipi all'edizione 2015 di L'Isola dei Famosi, in onda da gennaio su Canale 5. Chi se ne frega!